Alleluia 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 alla potenza è una gioia predicare per il signore che dio pregate per noi popolo che dio ci dia forza ancora per andare per tutto il mondo alleluia alleluia dio benedica la città di bari gesù vuole riscattarvi dalle tenebre alla luce dice il signore se oggi si è ascoltata la mia voce alleluia chi mi cerca con tutto il cuore io mi farò trovare o da lui o da lei cercatelo perché il signore dice affinché chi crede in me a vita eterna chiunque crede il signore a vita eterna allora è per la gloria di venere al figlio di dio che siede alla destra di dio a me perché il signore ritornerà e quando ritornerà che ti dà il signore non è giustificazioni davanti al signore alleluia alleluia non siate ribelli non indurite i vostri cuori alla parola di dio perché la parola di dio è la verità la parola di dio è il pane della vita